Una domanda che mi si fa spessissimo è questa Michele, quando sto male interrompo gli esercizi? Oppure mi si dice semplicemente Michele, sono stato male una settimana, ho avuto una riaccutizzazione dei dolori quindi ho lasciato, ho abbandonato gli esercizi riprendo adesso che sto meglio Allora, andiamo a parlare di questo Quando devo fare gli esercizi? Quando non devo fare gli esercizi? Quindi noi siamo sotto un'influenza della medicina occidentale perché siamo occidentali quindi abbiamo la mentalità, non vado a giudicarla, vado solo a descriverla abbiamo la mentalità che quando stiamo male c'è un agente esterno, c'è un farmaco che fa il lavoro di guarigione, diciamo così e noi dobbiamo riposare infatti in molti farmaci c'è scritto riposo uno prende l'antibiotico e deve riposare quindi siamo nutriti con questa cultura da quando siamo nati praticamente appunto farmaco e riposo oppure fino a tanti anni fa si ci va riposo assoluto signora, riposo assoluto hai una nevralgia del trigemino riposo assoluto abbiamo questa mentalità di farmaco e riposo adesso io dico questo la medicina non è una scienza pura la medicina si serve di scienze pure la chimica, la fisica ma di per sé è una pratica clinica in continua evoluzione ok? e se non una pratica clinica l'importante è il risultato quindi io dico seguendo questo criterio nei dolori cronici che cosa vediamo a livello clinico? le persone che hanno fibromialgia prendono farmaci e riposano ogni volta che stanno male escono dai sintomi? io sinceramente sono andato in tanti gruppi facebook da quando sono tornato in Italia perché vivo all'estero però lavoro anche con pubblico italiano diciamo così che non ho visto tutti questi grandi miglioramenti allora secondo appunto una pratica clinica dove non ci sono miglioramenti c'è un problema e io vado a ribaltarti la situazione andiamo un po' verso lo yoga terapeutico che come dico sempre non è lo yoga come lo chiamo io da google cioè non stiamo parlando di yoga a fare posturine saluti al sole con le tutine con gli om stiamo parlando di uno yoga un po' più serio che è quello che ho studiato anch'io all'estero quindi uno yoga clinico yoga più specifico per i dolori cronici andiamo a vedere un altro tipo di mentalità quando una persona sta male il corpo ha un potere di guarigione intrinseco quando io mi taglio mi faccio una ferita non è che serve che guardo la ferita affinché si chiuda ok? la ferita che cosa fa? si chiude da sola quindi il corpo si autocura in tutto noi abbiamo un ruolo passivo occhio perché qui sta il succo di tutto il video anche se il corpo ha una capacità di autoguarigione noi abbiamo un ruolo attivo perché per esempio dobbiamo tenere pulita la ferita per esempio dobbiamo magari favorire la ferita mangiando sano perché magari si infiamma se mangiamo cibi infiammatori allora abbiamo un ruolo attivo ok? dobbiamo continuare a muovere l'altro perché se lo lasciamo magari chiuso la ferita crea restrizioni miofasciali quindi è come se il corpo avesse una capacità di autorigenerazione e ce l'ha non ce l'avesse ce l'ha e noi coadiuviamo aiutiamo ok? il corpo quindi già vediamo la distinzione in occidente siamo convinti che io sto male qualcuno deve fare qualcosa dandomi quel qualcosa medico dando il farmaco io non faccio niente io sto male sto a letto sto male si chiede al malato cosa farei oggi? niente sto male e la tipica risposta cosa farei? niente sto male quindi non faccio niente invece in oriente tu devi fare qualcosa devi aiutare il corpo durante il processo di guarigione devi favorire questo processo per quello gli esercizi terapeutici non si mollano mai io ho degli esercizi terapeutici specifici quindi nessuno sta dicendo che quando stai male devi andare in google o in youtube e scrivere yoga e farti una lezione di yoga o scrivere pilates farti una lezione di pilates devi fare cose specifiche però intanto devi farle quindi andiamo a dire che il corpo ha una capacità di guarigione anche nei dolori cronici cioè il corpo riesce a diminuire l'intensità del dolore di per sé ok? perché tu se stai se ti prende un attacco di mal di testa il mal di testa passa cioè anche se non prendi farmaci ok? patisci come un cane ci siamo ok? però passa cioè non è che resta un anno no? quindi il corpo ha un ciclo del dolore tu che cosa devi questa è la prima cosa da capire che il corpo ha questa capacità passiva diciamo no? il corpo lo fa da solo tu non fai niente però tu devi favorire quindi tu hai un ruolo attivo con gli esercizi terapeutici quindi non devi fare appunto pilates yoga o esercizi come dico io a caso ma devi fare degli esercizi perché aiuti questo processo ti faccio un esempio molto pratico io ho una nevragia al trigemino può venire molte volte da malocclusione perché il trigemino aderisce a delle aderenze benissimo queste aderenze si infiammano e tu hai l'attacco la nevragia al trigemino ok? si sviluppa un quadro fibromialgico diciamo così allora se io sto fermo come vedo tanti no no ma io la nevragia al trigemino io non faccio niente sto male sto così prendo cortisone non va bene perché? perché tu alla fine è vero che il cortisone ti butta giù il dolore però punto uno ti prendi tutti gli effetti collaterali del farmaco punto due mentre tu hai la fase infiammatoria e tieni fermo la parte dove il trigemino scorre la parte infiammata crea aderenze quindi alla fine del ciclo di dolore tu avrai ancora più aderenze e la prossima volta ti prenderà ancora un'infiammazione quindi starei avanti male quando stai male invece per esempio se tu lavori le braccia crei delle tensioni indirette sul trigemino e cosa vuoi fare? vai a liberare tutte le possibili aderenze che stanno per creare sì ok quindi se io sto così tre giorni perché mi fa male creo aderenze dopo ancora più problemi ma se io faccio degli esercizi terapeutici così tiro vedi che non sono sul collo ma sono su delle linee miofasciali che vanno a prendere il trigemino quindi innanzitutto favorisco il processo di guarigione dell'infiammazione quindi passa prima te lo garantisco passano prima i dolori perché? perché stai facendo il tuo ruolo attivo ok? non più passivo ma attivo il corpo si auto guarisce e tu lo favorisci con manovre specifiche punto 2 che cosa succede? che non vai a favorire quadri che peggioreranno il tuo stato ma vai a migliorarli perché magari facendo così per esempio altre cose che ti dirò nei percorsi terapeutici vai a liberare le aderenze quindi alla fine del ciclo del dolore tu hai una situazione buona e lì quando non stai male lavori più intensamente quindi ricapitolando quando hai dei quadri dolorosi devi fare esercizi specifici abbassi l'intensità degli esercizi assolutamente ne fai molto meno ci sono esercizi seduti su una sedia io spiego esercizi seduti sul divano seduti sul letto quindi non è che andiamo a fare pirouette non è che andiamo a fare capriole o fare lezioni di yoga o di pilates facciamo cose molto facili quando hai sintomi però devi fare manovere terapeutiche quando hai sintomi non puoi abbandonarti alla passività e lo sai perché? non perché lo dico io ma perché stai andando contro la natura del corpo che come ti ho detto ti vuole attivo nel processo di guarigione e noi come al solito qui in occidente siamo tipici per andare contro la naturalità del corpo per quello la gente sta male per quello la gente non esce dai dolori cronici per quello la gente è depressa infelice perché va tutto il tempo contro quella che è la natura dell'essere umano se ti interessano queste tematiche sai che ho i miei percorsi online qui sotto in descrizione trovi le informazioni per la fibromialgia per i dolori cronici sono percorsi specifici in cui devi lavorare sono fatte apposta per persone che stanno male quindi Michele ma io non posso fare esercizi ma nessuno ti sta chiedendo di fare esercizi perché per le persone la parola esercizio vuol dire andare in palestra saltare muoversi io chiamo esercizi perché sono un modo di esercitare il tuo corpo facendo delle manove terapeutiche però non sono gli esercizi appunto che tu hai in mente della palestra per esempio del fitness o del pilates o del yoga classico diciamo così ma sono manovre specifiche ci sono tanti percorsi puoi provarli anche quindi mi puoi scrivere qui sotto io ti informerò e avrai gli esercizi da fare proprio quando stai male perché quando stai male che il tuo corpo necessita della tua collaborazione quindi mi raccomando non cadere nei tipici errori che sono tutti hanno tutti come denominatore comune l'andare contro la natura del tuo corpo perché così non ne uscirai mai dai dolori cronici per quello la gente non esce quindi io ti ringrazio e spero veramente di avverti nei miei percorsi di avverti di avverti la natura di avverti di avverti